Ciao a tutti ragazzi, io sono un ragazzo tedesco di Germania e mi piace molto la lingua italiana. Io in questo video vi voglio dire perché io parlo italiano. Allora io ho cominciato a studiare la lingua italiana quando ero pampino in Germania a Monaco di Baffiera, mia città natale. E poi sono venuto qui in Italia dove ho fissuto tanti anni a Roma. E ancora adesso io abitavo a Roma e a Roma io lavoro come rappresentante in una azienda internazionale. E io ho rapporti, mantengo rapporti con paesi di lingua tedesca e quindi con mia Germania ma anche con Svezera e Austria. E questa è per me occasione molto importante di parlare ancora oggi mia lingua, anche se io preferisco la lingua italiana. Io infatti sono molto contento di vivere qui in Italia perché qui in Italia si mangia molto bene. In particolare pezza, pasta, insomma carboidrati. Non si mangiano solo patate e zalsicce come da noi in Germania. E quindi io qui per questo motivo sono molto contento. E fatico che questo è tutto e spero che voi apprezzate il mio video. E niente, io allora vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!